3, 2, 1, si balla! Inizia con una certa nonchalanza. Testa, la solidità del ring e va a infilare il guanto, Michael. Che se vuoi qualcosa devi fare di testa tua. Se la fortuna ti assegna qualcosa di prezioso, non lo getti sulla riva del canale. Questo è veramente un guantone ben giocato. Magari non altro. Ci sbeppeccia con la mano in tasca. No, 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 no. 3 minuti ancora, sei a metà del tuo tempo, Michael. Sa facendo volare di tutto. Ciao La tiene lì col gomito E si diverte come un matto La folla lo segue E siamo a 4 adesso Per dare a 5 bottiglie E quella che dovrà rimanere Rimane quando manca solo un minuto 60 secondi ancora Una foca stasera sul palco 30 secondi 10 5 4 3 2 1 Michael Moreni Signore e signori 6 6 7 7 7 8 8